L'ambientalismo non gode di una buona fama in Italia. Io direi l'ambientalismo non ha così granché da fare con la protezione delle balene o delle farfalle o, se volete, degli incineratori a Napoli. Queste sono robacce. Invece l'ambientalismo, l'ecologia sarà una asse centrale per avere un mondo sicuro e un mondo di pace. Io sono appena stato in Thailandia e in Cambogia e lì in Cambogia, un povero paese. C'è stato vicino a Angkor Wat, il famoso posto sacro, c'è un grandissimo lago, un grandissimo lago che a certi periodi dell'anno trabocca, diventa grande, inonda un sacco di superficie. E questo dà fertilità a tutta questa zona, perché inonda regolarmente la terra. Questo lago, come dire, respira durante l'anno perché fa parte del sistema del Mekong. Il Mekong è uno dei grandi fiumi del mondo, grandissimo. Se guardate sulla carta, viene dalla Cina e poi dalla Cina tocca a Birma, poi va in Laos, poi Thailandia, poi Cambodgia e poi Vietnam.